Buongiorno a tutti, oggi siamo nuovamente qui per la seconda edizione della Lions Walk, siamo insieme nuovamente organizzando i Lions e i Leo e in questa giornata in cui c'è stata tantissima partecipazione, un'ottima risposta da parte delle persone che sul territorio decidono di farsi del bene e dedicandosi una giornata all'aria aperta e far del bene perché tutto il ricavato anche oggi sarà devoluto agli ospedali, in particolare a Regina Margherita del reparto oncologico e all'ospedale Agnelli di Pinerolo. Quindi grazie a tutti i partecipanti per questa giornata e per questa partecipazione.